Musica Presidente Pallanwati Marat dice penso che quando incontriamo il Maestro Pinto animal questo è il momento più importante della nostra forma umana di vita Quindi Shila Bhakti Raka Siddharmaraj dice Quindi noi dobbiamo adorare anche il nostro compleanno Perché grazie a questo compleanno noi abbiamo avuto la possibilità di incontrare Krishna e il nostro maestro spirituale Quindi un'altra cosa molto mistica è Quando un egoista diventa un servitore E questo è il momento quando uno comincia a fare il servizio devozionale Solamente allo scopo di fare piacere a Cristo Perché tutti fanno le cose per loro stessi Tutti meno le mamme Le mamme praticamente fanno sempre servizi Almeno per i loro bambini Che è un esempio molto bello Però la gente normale pensa solo a se stessa Quindi uno incontra il maestro spirituale e tutto cambia E da lì uno comincia a fare il servizio devozionale Questo è un grandioso cambio mistico E che dire se poi questa cosa la fate anche per molti anni Come per esempio Mabrusha Prabhu che ha fatto sangri Quanti di voi hanno fatto sangri Quanti di voi hanno fatto sangri Loro ci hanno mandato in giro per il mondo semplicemente per invitare tutti E quindi siamo grati ai nostri maestri spirituali Per il fatto che ci abbiano dato un servizio devozionale E una delle cose più importanti nel servire È ascoltare la coscienza di discorsi su Krishna O parlare, dire discorsi su Krishna Anche questa cosa è molto importante È per questo motivo che Grimmarasi ha voluto sentire delle cose da voi Grazie molte per le belle storie E il bellissimo Lord Chaitanya che va a Cusco E qui abbiamo il bellissimo Chaitanya Mahaprabhu che va a Cusco in Peru E se quando andate in Peru potete andare a visitare Chaitanya Mahaprabhu Perché lui è venuto a visitare voi Uno deve ricambiare il favore Per più dettagli potete contattare Rasa Dali E per i dettagli dovete Eccola la, quella devota la, dovete contattare lei E Cusco, sì, e Rasa Dali è preso al Signore dell'Universo E Cusco in Peru risiede vicino al Signore dell'Universo E c'è un luogo che si chiama Un luogo che appunto in lingua nativa del Perù significa Signore dell'Universo Che è la montagna sacra dell'Incas Grazie 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 E' come la devozione sta andando avanti in Italia Che dire quando voi arrivate ai 60 anni Aggi avvicinare al Signore dell'Universo E allora dovete farvi tutto quello che ha fatto Prabhupada E non lo capire Se è stato il regno, poi lo ha fatto bene Il Signore dell'Universo Fare di tutti quello che ha fatto Prabhupada E allora avrete l'ispirazione dal Silla Prabhupada non c'è bisogno che aspettate 68 anni io ho trovato molto sorprendente che la coscienza di Krishna ci abbia tratto non è facile perché la società ti vuole sempre tirare indietro e invece il Prabhupada e Krishna ci stanno tirando dall'altra parte una nel mezzo e ti dicono lascia andare il diavolo ma la parte spirituale dice ti dice tira prendi quelli e portali da questa parte questo è il potere della coscienza di Krishna che uno vuole convertire anche la famiglia uno non vuole abbandonare la famiglia questo è vero questo è vero anche se non sei un brahmachari devi andare qualche volta per esercitazione non significa che il brahmachari si dice non è mai stato detto non va bene che il brahmachari pensi di rifiutare i propri genitori al contrario al contrario sta cercando di fare il meglio per la sua famiglia che puoi fare per diventare un devotee e lui sta facendo da quando diventa devoto lui cerca di fare il meglio che può per la propria famiglia quindi diventa devoto di Krisha e non hai più impegni e debiti con gli Dei non con la società non con la famiglia nemmeno con la società nemmeno con la famiglia perché? perché fai qualcosa di molto più alto e tutti riceveranno beneficio è beneficio in un modo che non ha precedenti ci vuole spesso ci vuole un po' di tempo che la famiglia ti raggiunga il suo papà non gli è mai andato giù che lui sia diventato un devotee però trent'anni dopo poco prima che lui lasciasse questo mondo che Krishna gli ha rivoltato tutta la situazione quindi Krishna può fare tutto quindi noi dobbiamo solo provare a servirlo e fare tutto quello che lui vuole che facciamo e Jannava Devi le sue glorie sono impossibili da inuncia era una personalità grandissima grandiosa tutti i nostri acciari si gettavano ai suoi piedi e lei era un membro importantissimo della Brindavan grazie lei qualche volta andava in Brindavan e stava al Radha Gopinat Mandir e oggi anche il giorno di Sita Devi è la Divina Madre che ci offre miracoli, miracoli, miracoli ogni secondo è la Divina Madre che ci offre miracoli, miracoli, miracoli ogni secondo osserviamo le grandi Madre oggi è il giorno della mamma e tutti i giorni devono diventare la festa della mamma però oggi deve essere speciale perché è il giorno di Sita e come ha parlato stamani Brumadasio ci raccomanda in questa settimana che è la settimana dedicata alla madre di ascoltare quelle lezioni delle quali ha parlato stamani è gratis e sono gratis e parlano veramente persone competenti che cercano di fare la differenza e ora possiamo cantare un po' prima di prendere questo Grazie a tutti.